Ed è proprio Riparbelli al servizio Sezione in tuffo problematica però Gioni l'attacco di Perkan murata Si salva Roma, si va da Svetlitz che attacca Muro di Guidi che chiude la contesa 25-20 E allora 3-0 Vole Soverato che torna alla vittoria Dopo due sconfitte consecutive in casa Nel turno di Santo Stefano festeggia un 3-0 25-13, 26-24, 25-20 Con Sonia Perkan sicuramente la giocatrice più esperta Il simbolo di questa squadra di Roma Commentiamo questa sconfitta qui a Soverato nel turno di Santo Stefano 3-0 il punteggio finale Forse un po' di rammarico per voi può rimanere Per aver avuto quel set point nel secondo set Nel complesso un Soverato che si è dimostrato molto più efficace Più reattivo Forse a voi si è fatta sentire anche un po' la stanchezza Della partita di tre giorni fa con Baronisi Sicuramente questo periodo delle feste Tante partite tutte e due in trasferta non hanno aiutato Però di base soffriamo sia un po' in ricezione ultimamente Forse troppo Eppure oggi si è visto Abbiamo la prima paleggiatrice ancora un po' in panchina Però le giovani sono inesperte Durante la partita è difficile Ogni partita è tosta Bisogna dare il massimo e tirare fuori il coraggio Che spesso è difficile per le inesperte A tratti abbiamo fatto un buon gioco Però non basta In questa serie A2 Chi lo sa Ogni partita Ogni punto è importantissimo Io spero che Ecco Il 6 in casa Giochiamo una partita importantissima per noi E che riusciremo A trovare sia Erika Vietti in campo Sia il nostro gioco E un po' più di coraggio Che servirà a vincere quella Dall'alto della tua grande esperienza Hai giocato tantissimi campionati Anche in A2 Come giudichi questo campionato Che è diverso dal solito Hai cambiato il format Due gironi Partite poi in una fase successiva Sicuramente è una situazione un po' anomala Un po' per tutte le squadre Sia quelle impelagate per i posti di vertice Sia per quelle che devono lottare per la salvezza Ah purtroppo Sì una novità Purtroppo mi trovo tra le ultime quattro squadre Di questo girone E la cosa strana è che Quando andremo nel prossimo girone Ci porteremo soltanto i punti Che abbiamo fatto con le ultime quattro Del nostro girone Infatti come per dire Se vincevamo oggi Prendevamo tre punti In quell'ottica lì non serviva a niente Purtroppo E questa cosa è veramente strana E non so quanto condivisibile Sul livello sportivo Perché Purtroppo noi giochiamo bene Con le squadre forti E lì abbiamo fatto punti E non serviranno a nulla In quel momento E non lo so Io ecco Di nuovo ripeto La mia squadra si deve concentrare Per la prossima partita Perché lì i punti sono veramente importanti In questa ottica qua Adesso spiegata Chiara Ripermelli è stata sicuramente Una delle protagoniste Di questa bella vittoria Del Valle Soverato Su Roma Questo oggi per la prima volta Nello starting six Sicuramente Una bella emozione Però diciamo che hai risposto Sul campo Con una bella prestazione L'emozione poi A un certo punto L'hai lasciata da parte Ovviamente ero emozionata Però comunque sia Le ragazze sono state Tutte quante Mi hanno supportato Molto durante la settimana E comunque sia Da parte di Bruno Sento che c'è fiducia Quindi sono entrata Alla fine in campo tranquilla E penso si sia visto Una bella risposta Di a parte di tutta la squadra Anche sotto il profilo del gioco Rispetto alla partita precedente Oltre che dal punto di vista Del risultato Questo è di buon auspicio Per la partita di domenica prossima A Mondovì Che sarà una partita importante Soprattutto per la classifica In ottica seconda fase Sì sicuramente Questa partita è servita molto Perché ha dimostrato Che se giochiamo con attenzione Tranquille Tutte insieme Riusciamo a fare bene E ci è servito Soprattutto per superare Le due settimane Di un po' di stallo Che ci hanno colpito E quindi sì Speriamo che poi sia Possa servire Per fare bene dopo Coach Bruno Napolitano Allora possiamo commentare Questa vittoria Nel turno di Santo Stefano 3 a 0 Sul Roma Volley Group Una bella reazione Della squadra Una bella risposta Sotto il profilo Del punteggio Sicuramente 3 a 0 Abbastanza netto Ma sicuramente È un viatico Per la seconda fase Di stagione Che adesso inizierà Ma sì guarda Siamo contenti Perché al di là Dei tre punti Che insomma Come diceva Chi mi ha preceduto Non servono a moltissimo Però era importante Dare una risposta Sul campo Alla partita Contro Martignacchi Domenica scorsa Io ci tengo a precisare Che questa È una squadra Che secondo me Andrebbe amata A prescindere Perché veramente Con queste ragazze Io in palestra Ovviamente Faccio il mio lavoro Per cui non posso pretendere Di essere sempre sereno Sempre tranquillo Ma veramente È un gruppo A cui devo dire grazie Per quello che mi sta Mi sta dando Faccio presente Che a un certo punto Noi in campo Avevamo Due 2000 299 E un 96 A parte l'americana Quindi Voglio dire Fino a quando La situazione Anagrafica Non sarà opinabile Non credo Insomma Non è un'opinione Questo deve comunque Farci capire Ma a tutti Io non mi tiro indietro In questo Che questa è una squadra Che va amata A prescindere Perché veramente È una squadra Di ragazze Giovani Che sta dando Le soddisfazioni Non voglio fare Esempi Con chi mi ha preceduto Negli anni Ma forse Come poche volte Ha dato La squadra In quest'anni Assoverato Questo mi sento Di dirlo E lo voglio Supportare In un modo A cinque giornate Alla fine del girone Diciamo Regolare Siamo matematicamente Nelle prime cinque Io Cosa posso chiedere Di più a queste ragazze Analizzando invece Più L'aspetto tecnico Di questa sfida Ovviamente Sono state Ruotate diverse Giocatrici Complice anche L'assenza Di Aricò Di nuovo Mangani Al posto di Aricò Però c'è stata Anche come dicevamo Riparbelli al centro Entrata pure Sacani Entrata Formenti Insomma Sono state coinvolte Tutti Una bella risposta Di squadra Si può dire oggi Per una squadra Che fondamentalmente Ha dominato il match A parte il secondo set Dove c'è stato Più equilibrio Però si è avuta Sempre quella sensazione Che il soverato Quando accelerava Poteva Chiudere La pratica Ma si Sai Voglio dire Questa è una squadra Che comunque Durante tutto Il campionato Ma anche Nella fase pre-season Quando andiamo a fare Amichevoli Ovviamente con dei livelli Diversi Perché la squadra Indubbiamente è cresciuta Questo sono io A dirmelo Perché serve per il mio lavoro Però ha sempre avuto Diciamo delle difficoltà In alcuni momenti Legati un pochino All'inesperienza E alla incapacità Di tirarsi fuori Dalle situazioni difficili Per inesperienza L'esperienza non è qualcosa Che leggi sui libri L'esperienza te la fai giocando Questa è una squadra Composta da giocatrici Che faranno parlare di sé Ma bisogna dargli il tempo Di acquisire questa esperienza Oltre che lavorare E quindi migliorare Le proprie capacità tecniche E tattiche Acquisire quell'esperienza Che ti serve A gestire i momenti difficili Ed è quello che noi Paghiamo in alcuni momenti Io non voglio ritornare Sulla partita di Martignacco Ma è indubbio il fatto Che se manca L'unica persona Di esperienza In questa squadra Che è Ramona Ricò Al di là dei punti Che metta al tabellino Per una squadra così giovane Manca un riferimento E questa è stata una scelta Che noi abbiamo avuto all'inizio Secondo me è una scelta Io rifarei questa scelta Altre 150 volte Se mi fosse chiesto Quindi assolutamente Sono contento Di lavorare con questo gruppo Anche laddove Per questi motivi qui A volte ci perdiamo Un po' in campo Ma il processo di crescita Di apprendimento Non può prescindere Dall'errore Questo non lo dico io Ma lo dicono allenatori Che hanno fatto La storia della pallavolo Per cui io credo Che anche l'errore Laddove oggi c'è stato Perché nel secondo set Siamo un po' complicati Alle vite Vada accettato E vada preso Come un processo di crescita Per una squadra Che comunque Ha una età media di vent'anni Per un processo di crescita 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 Grazie.